L'informazione di valore sul canale 18. Questa è Esperia TV. Il posto in procura a Catanzaro, ma anche alla Corte dei Conti, che ha ridotto la sanità in queste condizioni, ora deve pagare. Fasce deboli da tutelare a Crotone, saranno disponibili 1.500 tamponi gratuiti, ciò grazie ad una collaborazione tra pubblico e privato. Lo annuncia il sindaco Voce. Venerdì, venerdì 13 novembre 2020, ben trovati sul 18 per l'edizione regionale del nostro notiziario. La politica è in primo piano, i consiglieri regionali di opposizione, Guccione, Bevacqua, Irtono, Tarangelo, Tassone, Aieta, Di Natale e Pitaro hanno scritto al Ministro per i affari regionali, boccia e per conoscenza al Presidente del Consiglio regionale, Tallini, in riferimento ai lavori dell'ultima seduta, la suda di congedo del Consiglio del 10 novembre scorso, lamentando, dicono i consiglieri di minoranza, un gravissimo atto politico lesivo dei diritti delle minoranze. Ed ora un'ampia pagina della sanità, partiamo con l'esposto denuncia sulla situazione sanitaria in Calabria, che ha presentato questa mattina sia alla Procura della Repubblica di Catanzaro che alla Corte dei Conti da parte di Cigel, Cisle e Will Calabria. I segretari generali di Cigel e Cisle Will, Angelo Sposato, Tonino Rosso, Santo Biondo, hanno presentato un esposto denuncia in procura nelle mani di Nicola Gratteri sulla questione della sanità in Calabria. Deve essere fatta luce su responsabilità, negligenze e inadempienze che hanno fatto precipitare la Calabria in piena seconda ondata di pandemia Covid-19 in una situazione molto preoccupante che appare ad un passo dal crollo, come attestano anche le dichiarazioni e le proteste di un personale sanitario allo stremo e le immagini di ospedali in tilt con pazienti che versano in gravi condizioni fermi nei pronto soccorso. Il nostro esposto denuncia, spiegano Sposato, Russo e Biondo, ricostruisce tutta la sequenza dei passaggi compiuti da istituzioni e autorità competenti, Governo, Regione Calabria, Commissario ad Acta. Dopo le sconcertanti e incongruenti dichiarazioni dell'ex generale Cotticelli, abbiamo infatti messo in luce come, nonostante ripetute sollecitazioni ai soggetti attuatori, il piano di riordino della rete ospedaliera in emergenza Covid-19 a firma dello stesso Commissario ad Acta, generale Cotticelli, fosse rimasto soltanto sulla carta e come queste gravi circostanze avessero causato l'inserimento della Calabria in zona rossa, evidenziando un grave rischio per la sanità e la sicurezza pubblica e comportando pesantissime ricadute economiche e sociali. I sindacati si sono riservati di costituirsi parte civile nell'eventuale successivo procedimento penale. Martedì prossimo, sposato, russo e biondo saranno auditi dal ministro della Salute Roberto Speranza per formulare le loro osservazioni al decreto Calabria, prima della sua conversione in legge. Alcuni dipendenti dell'ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro sono risultati secondo fonti ospedaliere positivi al coronavirus. Immediate le misure contenitive adottate dal presidio dove si trova uno dei centri Covid della provincia. Infatti a riscontro della positività si è provveduto a liberare il piano occupato dai reparti, effettuando le opere di sanificazione previste, nonché effettuando i tamponi a tutto il personale coinvolto. Processare i tamponi effettuati nei comuni della provincia di Crotone e nei laboratori dell'azienda sanitaria provinciale quanto sollecita il presidente facente funzioni della provincia di Crotone, Simone Saporito, che ha inoltrato una richiesta in tal senso al commissario Arcuri, al presidente facente funzioni della regione, al commissario Adacta Zuccatelli, al direttore generale Dipartimento tutela della salute, politiche sanitarie della regione, Bevere. E' davvero fuorviante, dice Saporito, avere centinaia di cittadini che da oltre sette giorni hanno effettuato il tampone molecolare ed ancora non hanno ricevuto l'esito, una situazione di incertezza e di confusione che genera rabbia, ma soprattutto tensione nella società. A proposito del Covid, appuntamento col bollettino diffuso nel pomeriggio dalla regione Calabria. Leggiamo insieme i dati. Ad oggi i casi totali sono 9.416 e in pratica sono 297 in più rispetto a ieri, ricoverati 338. In rianimazione abbiamo 27 pazienti, guariti 2.448, i deceduti 164, in isolamento domiciliare 6.045 calabresi, tamponi seguiti sino ad oggi 313.881. Diciamo che i 297 casi di oggi sono così suddivisi per territori, Cosenza 65, Catanzaro 62, Crotone 21, Vibbo Valencia 25 e infine Reggio Calabria con ben 125 nuovi contagi. Da lunedì prossimo a Crotone verranno eseguiti 1.500 tamponi gratuiti a favore delle fasce deboli e quanto fa sapere il sindaco Vincenzo Voce. Vediamo il servizio. A partire da lunedì saranno effettuati a Crotone i primi 1.500 tamponi gratuiti destinati a fasce deboli della cittadinanza quale strumento di prevenzione contro il diffondersi del contagio. Un piano anti-covid messo a punto in sinergia tra comune, ASP e privati. Grazie alla disponibilità del Merrily Hospital i primi 500 tamponi antigenici saranno eseguiti presso la clinica. Sempre lunedì il Crotone Calcio consegnerà 1.000 tamponi che saranno gestiti dal personale dell'azienda sanitaria provinciale. Un'altra azienda privata la Sales Solution ha messo a disposizione un servizio telefonico per contattare direttamente le persone che saranno sottoposte a test rapido. Saranno contattate le persone a reddito zero che fanno parte degli elenchi già in possesso dell'amministrazione e relativi a coloro che nei mesi scorsi hanno usufruito dei buoni spesa per l'emergenza Covid. Riceveranno la telefonata per recarsi presso le strutture dove gratuitamente si potranno sottoporre al test rapido. Il sindaco di Crotone Vincenzo Voce ha ringraziato il Merrily Hospital Sales Solution e il Crotone Calcio per la sensibilità e disponibilità. Questo è il senso di unità e solidarietà che una comunità deve dare infrangenti come questi. Restiamo a Crotone l'avvertenza dell'Abramo Customer Care che complessivamente interessa 3.000 dipendenti. A quanto pare ci sarebbero alcuni acquirenti per rilevare la società che gestisce numerosi call center. Sulla vicenda intanto il Ministero del Lavoro per il prossimo 18 novembre ha convocato a Roma i sindacati. E adesso spunta una serie di acquirenti interessate all'Abramo Customer Care. La notizia è stata diffusa dall'azienda stessa ai sindacati così come si legge oggi sulle pagine del Crotonese. La CIS però ferme di non sapere ancora se l'azienda sarà venduta interamente divisa per rami identica perplessità espressa anche dalla Will. Una mezza dozzina gli interessati all'acquisto dell'azienda per un affare che si aggirerebbe sui 30 milioni di euro ma anche in questo ipotetico passaggio di consegne se mai ci sarà occhi aperti sulla sorte dei dipendenti che come sempre in questi casi sono l'anello debole e quelli che alla fine pagano più di tutti. Intanto però Abramo ha informato i sindacati come intenderà procedere con le retribuzioni dovute ai dipendenti. Circa i pagamenti degli stipendi riportano i sindacati ci hanno confermato che come danno di richiesto verrà anticipata una parte della retribuzione di novembre già nel mese in corso e la restante parte verrà erogata nella prima settimana di dicembre. E c'è un altro fronte attivo sulla vicenda e quella relativa alla riunione del Ministero del Lavoro per il prossimo 18 di novembre. L'incontro che avverrà vista le situazioni emergenziali in atto con modalità online sia all'inizio di un dialogo proficuo che possa mettere le basi per la soluzione della crisi in atto. Lo fa sapere il deputato dei 5 Stelle Elisabetta Barbuto che afferma che nei giorni scorsi aveva scritto al Ministero del Lavoro e al Mise evidenziando come la notizia avesse comprensibilmente gettato nel panico i lavoratori. Giova a sottolineare e ricorda la parlamentare che la maggior parte dei lavoratori più di 3.000 unità si trova in Calabria e che la già precaria situazione economica della regione e in particolare di Crotone rischia di precipitare senza ritorno. Un atto vandalico è stato compiuto nella chiesetta della Madonna dell'Idria a Castrovillari ignoti armati di bomboletta spray e vernice hanno imbrattato scrivendo frasi offensive l'altare il quadro sovrastante la pala dell'altare i muri interni della struttura alcune statue per poi mettere tutto a soquadro dopo il gesto biasimo e vicinanza sono stati espressi dall'amministrazione comunale di Castrovillari al parroco e alla chiesa locale. Ed ora andiamo a Catanzaro vediamo questo servizio. La pandemia da Covid-19 ha portato a rivedere e rimodulare la gestione dei pazienti nell'arco di pochi mesi mantenendo sempre alta la qualità terapeutica e basso il rischio di contagio per soggetti già fragili e in particolare per i pazienti oncologici ed oncoematologici. Conciliare i modelli gestionali del post-pandemia con l'evoluzione delle terapie in oncoematologia è il tema del corso di formazione in ematologia ed oncologia la cui tredicesima edizione si svolgerà in videoconferenza secondo le normative anti-Covid che è stato presentato dal coordinatore scientifico Stefano Molica del dipartimento di oncoematologia dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro. Il 30% dei pazienti con patologia oncoematologica se si ammalano di Covid-19 hanno un decorso particolarmente sfavorevole. Allora si capisce bene che le scelte della terapia che la gestione con modalità di presa in carico che possono essere spesso a distanza per quando è possibile devono rappresentare un po' il punto forte di un modo di lavorare che è un modo di lavorare diverso e di un approccio diverso a questa tipologia di pazienti nella logica sempre che l'obiettivo deve essere quello di offrire la cura migliore e le opportunità di trattamento più adeguate. Anche il personale infermieristico ha dovuto confrontarsi con nuove modalità di cura dei pazienti. Abbiamo messo insieme tutta una serie di provvedimenti proprio per dare possibilità a questi pazienti di continuare ad essere curati per esempio anche distanziandoli dalla struttura però contattandoli telefonicamente per esempio oppure mandavano tramite infermieri o associazioni di volontariato che ci portavano per esempio i prelievi senza farli venire in struttura. Certo la collaborazione col territorio sarebbe ancora più importante rispetto ad alcune cose perché è l'ospedale che deve andare a casa del paziente e se non lo fa l'assistenza domiciliare comunque è un problema serio perché anche sul territorio le difficoltà ci sono state e sono state enormi. È tutto per il momento grazie per averci seguito ci rivediamo più tardi.